Era agosto 2022 quando Kasugan aveva lanciato un bando per individuare una società alla quale affidare la gestione dei parcheggi per sette anni. Nell'aprile dello scorso anno l'aggiudicazione della gara Parchi TSRL di Perugia, ma a stretto giro era arrivato il ricorso della seconda società classificata, la Intercoppa SPA di Verona. Oggetto del contendere i parcometri prodotti da una terza ditta, l'AIM, il cui preventivo avrebbe fatto riferimento a un vecchio ordine elaborato per l'APS di Padova, società del comune. Ora l'amministrazione si riserva di valutare le iniziative da intraprendere. Sono dinamiche normali che succedono in fase di gara d'appalto, quando le gare sono importanti tendenzialmente c'è una ditta che si aggiudica l'appalto e molte volte capita che la seconda ditta ricorre per cercare quelli che possono essere dei vizi formali. In questo caso qualche vizio è stato anche riscontrato, per il comune di Treviso cambia poco, nel senso che procederemo con l'assegnazione al secondo classificato con la speranza che non ci sia un ulteriore ricorso. Prevale la fiducia nelle parole del sindaco Conte, ma le opposizioni attaccano. È una questione molto seria, al di là dei 5.000 euro che siamo condannati a pagare, perché si parla del destino dei progetti sulla sosta. Un'eterno incompiuta per questa amministrazione. Il parcheggio Miani gratuito da mesi, il ritardo nell'appalto per il bike sharing, solo alcuni dei nodi che le opposizioni portano al pettine, uno scenario di assoluta confusione, commentano. Il Parca Vittoria ancora ad infucare il dibattito. Prevederà contenziosi, durerà anni e prevede una concessione di 60 anni, insomma non i 5 del TAR di adesso. Entriamo in un progetto che è forse più grande di noi per le capacità di questa amministrazione, che non ha un'idea precisa per quello che riguarda la mobilità e che ogni 2x3 viene sconfessato dal TAR nelle sue decisioni. Mobilità che sarà la questione cardine del prossimo Consiglio Comunale in cui si voterà il cosiddetto PUMS, il piano di mobilità sostenibile. Vogliamo capire se le chiacche, se quello che è scritto nel PUMS sono solo chiacchiere, oppure se appunto c'è un'idea vera e reale e sostenibile per questa città. Attualmente quello che ci dicono i TAR pare di no.